ciao amiche di filo oggi insieme a voi realizzerò un tessuto originalissimo utilizzando questi scarti di tessuto di cotone che sono veramente dalle forme molto irregolari e anche molto piccoli quindi non si possono recuperare in altro modo se non per fare degli applique quindi io ho selezionato un pochino tra gli scarti di tessuto di cotone leggero cotone di provenza questi pezzettini qui che sto stirando accuratamente allora la forma irregolare le dimensioni sono piccole quindi per il patchwork tradizionale questo non è effettivamente sono difficili da utilizzare se non per fare delle piccole applicazioni mi garantisco che invece in questo modo riusciamo a realizzare un nuovo diciamo tessuto chiamiamolo così molto molto originale unico per valorizzare le nostre creazioni quindi come prima cosa li seleziono e poi con pura li stiro li preparo quindi tutti così allora non mettete il ferro come l'ho sistemato sul piano di taglio perché anche se c'è la base di silicone si può rovinare poi io utilizzo adesso vi faccio vedere questo questa teletta qui di rinforzo è una teletta questa è in tnt ma potete utilizzare quella che avete in casa devo ritagliarne un pezzo che poi è legato al progetto che voglio realizzare quindi la base sarà proprio delle misure del progetto che voglio realizzare o comunque simile ok questa è di 25 grammi per metro quadro è quella che utilizzo di meno quindi la uso senza problemi utilizzate una grammatura medio o bassa come sto facendo io se avete quella di tessuto utilizzate quella perché sia adesiva su un lato la sistemo sul mio mini assi e asse da stero ma se avete un piano più grande perché più grande il vostro progetto mettetele mettetevi su un piano da stero più grande metto la parte con la colla verso di me quindi la parte adesiva e adesso viene la parte divertente vado a posizionare i vari pezzettini di stoffa di tessuto abbinandoli coordinandoli fra di loro proprio seguendo il mio gusto la mia fantasia il mio estro insomma veramente qui diamo spazio alla creatività guardate questa parte lunga non l'ho ritagliata e anche par in parte curva alla parte iniziale le vado a sistemare seguendo un unico criterio che è quello di sovrapporre leggermente i tessuti vedete per me per almeno mezzo centimetro poi li posso spostare uno in alto uno in basso quindi quali vado ad incastrare come voglio importante che siano aderenti a questa teletta che ho messo in basso almeno per qualche centimetro e poi sovrapposti fra di loro la sovrapposizione deve essere di almeno mezzo centimetro quindi vedete io li accosto e li sovrappongo le forme le misure insomma non c'è niente di più irregolare di quello che ho ricavato io dal mio cesto dei ritagli guardate finiscono a punta di forma triangolare di forma curva questo colore che è molto bello lo posso mettere qui come una sorta di toppa oppure lo vado a sistemare sotto ai tessuti man mano che li sistemo mi rendo conto di quello che è l'effetto che voglio ottenere e di quello che posso ottenere con questi ritagli insomma qui veramente secondo me è un gioco di creatività che ci fa veramente bene ed è estremamente facile da fare non vado altro che a sovrapporre quindi non devo ritagliare con precisione non devo fare nessun calcolo particolare devo semplicemente sovrapporre i vari pezzi seguendo la mia fantasia quindi do spazio proprio a tutta la mia fantasia potete partire anche dalla zona centrale e poi mettere tutto attorno i vari pezzi potete insomma veramente sbizzarrirvi io cerco vedete di distribuire un po i vari colori attorno al alla parte iniziale questi verdi sono tutti quanti dei quadratini ben ritagliati perché erano degli angoletti che ho ritagliato ad un cestino quindi ho fatto il tessuto ritagliato dal dal cestino questo angoletto di base e lo utilizzo sono degli angoletti tipo di 3,5 cm x 3,5 vedete qua metto in evidenza proprio questa parte curva del tessuto allora una volta che ho preparato il tutto procedo ad incollare cioè sovrappongo il ferro da stiro caldo senza vapore per qualche secondo in modo tale che il tessuto aderisca per bene alla base e faccio così per tutta quanta la superficie quindi ecco rimango qualche secondo tolgo qualche qualche filo che c'è in alto però insomma posso veramente vedete estremamente facile questa è una tecnica adatta veramente a tutti è straordinaria secondo me poi fatemi sapere nei commenti se l'avete già utilizzata se se volete sperimentare anche voi questa tecnica è fantastica allora io qui in alto come vedete ho lasciato una fascia libera perché il mio mini asse è veramente piccolo quindi dopo aver attaccato gli altri pezzi sistemo anche un pochino di pezzi di tessuto qui in alto se avete un asse da stiro più grande insomma preparatevi per bene tutta la pezza prima di certo tutto il la composizione chiamiamola così prima di stirare quindi era solo per dire che anche se avete un mini asse potete poi procedere in questo modo quindi incollo pure questi qua in alto non stirate mi raccomando ma rimanete fermi sul punto solo per incollare i pezzi allora sono tutti fermi rimangono fermi adesso su questa base e metto al di sopra questo tessuto di tulle questo è un nastro ok non riesco le misure quindi dovrò unire due fasce di questo tulle non ho un unico pezzo di tulle che copre tutto quanto questo questo tessuto quindi ritaglio una fascia e poi un'altra e ecco e la sovrappongo questo è un tulle a rotoli ma lo trovate anche nei negozi di tessuto come diciamo un qualsiasi altro tessuto da utilizzare qui dove sovrapposto metto uno spillo per bloccare il tulle perché gli altri pezzi già sono bloccati quindi bloccata questa parte centrale vado a bloccare su uno spillo per lato giusto per tenere fermo il tutto almeno nella parte iniziale della cucitura farò una semplice cucitura con il conto dritto ma potete scegliere anche un punto decorativo quindi potete anche spizzare e faccio una cucitura nella zona centrale di questo tessuto procedo con una lunghezza del punto di 3,5 centimetri blocco il punto l'ago è un ago 70 universale quindi fatta questa prima cucitura più o meno dritta non vi preoccupate perché non è richiesta un eccessiva precisione procedo con un'ulteriore cucitura parallela a questa che farò a bordo piedino potete lasciare l'ago centrale oppure spostarlo questo dipende un pochino da voi e quindi procedo fino in fondo come ho appena fatto quindi con la seconda cucitura quindi dal centro in questo caso vado verso sinistra scusatemi e niente ecco qui e procedo così cucitura facilissima vedete si vede molto bene anzi questa cucitura è quasi impercettibile e su un lavoro così creativo anche qualche piccola imperfezione può essere utile cercate comunque di fare una cucitura dritta al limite se avete difficoltà la prima cucitura imbastita prima di venire alla macchina per cucire qui sono arrivata praticamente alla fine di questo lato cioè dal centro verso sinistra ho terminato le cuciture adesso giro il tessuto e partendo sempre dalla prima cucitura che ho fatto mi muovo allo stesso modo quindi con una serie di cuciture parallele a questa prima qua che ho fatto quindi stessa modalità si parte dal centro e si va verso sinistra io ho scelto di fare queste linee parallele ma potete tranquillamente fare delle linee curve anzi vi invito a vedere altri metodi per trapuntare i tessuti questo è un po come trapuntare è un fissaggio ma potete fare le stesse tecniche che vi ho fatto vedere per i trapunti questo qua è il risultato finale guardate che meraviglia che meraviglia è straordinario qui al tatto è veramente una sensazione particolare pezzi come vedete sembra un unico tessuto quindi adesso sono pronta per ritagliare il rettangolo che mi necessita per il prossimo progetto ovviamente lo potete ritagliare tranquillamente utilizzando un qualsiasi carta modello che avete vi consiglio di fare astucci anche tasche esterne per le borse potrebbe essere un'idea in più io questo infatti la sto preparando proprio per fare una borsa richiedibile e per non usare un unico tessuto all'esterno metterò proprio una tasca fatta con questo tessuto creato da me quindi sarà poi un oggetto unico molto molto particolare ecco ritaglio per bene sto utilizzando il cutter ma questo si ritaglia tranquillamente anche con le forbici come sapete tutte quante quindi eccolo qui ragazze io sono veramente soddisfatta del risultato che ho ottenuto ho voluto condividerlo quindi con voi e mi raccomando se vi è piaciuta quest'idea lasciatemi un bel like un commento fatemi sapere se effettivamente vi è piaciuta e se volete sperimentare anche voi questa tecnica io vi mando un grandissimo abbraccio e vi aspetto al prossimo tutorial ciao amiche a presto ciao ciao ciao